Prodotti che imitano alla perfezione quelli originali, ma acquistabili facilmente ad un prezzo inferiore. Il mercato del falso ha un impatto enorme sull'economia del nostro paese. Si stima al 2010 un fatturato di quasi 7 miliardi di euro, che toglie lavoro regolare a circa 110 mila persone. I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori, il comparto CD, DVD e software e quello dei prodotti alimentari. Sul tema il Comune di Napoli, in collaborazione con l'Anci, ha promosso un convegno nazionale che si terrà nella sala giunta di Palazzo San Giacomo mercoledì 16 ottobre, con la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato. Noi intendiamo sostenere due fatti con un convegno importante con la presenza del Ministro Zanonato e di altre autorevoli presenze nazionali e locali. Il primo è che noi vogliamo contrastare la contraffazione e salvaguardare la buona produzione tramite il ricorso ovviamente al rispetto delle leggi e all'utilizzo e la valorizzazione del lavoro delle forze dell'ordine. Secondo, c'è un versante della qualità della produzione napoletana e campana che noi intendiamo sostenere. Emozione Napoli, il progetto al quale abbiamo dato vita, intende percorrere questa filiera. Insomma, la contraffazione si combatte con la legalità e si combatte con il sostegno alla qualità della tanta produzione napoletana e campana che oggi paga un prezzo inaccettabile.